Stava guardando un film a luci cinema di Fano insieme ad un suo coetaneo quando all'improvviso è stato colto da un malore fatale. Alessandro Antonioli, 24enne, originario di Marotta, è deceduto la scorsa sera intorno alle 22.30 circa all'interno di una delle sale della struttura. Come riporta l'amico presente al momento del tragico episodio, il ragazzo lamentava di sentirsi stanco ansimando fino a perdere definitivamente conoscenza. Sul posto sono arrivati prontamente i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il giovane senza nessun risultato. Restano dunque da chiarire le cause della tragica morte che ha stroncato la vita del giovane ragazzo. A fare luce ora sarà l'esame autoptico.